ciao stelline oggi andremo a vedere l'ospedale che è anche nuovo eccomi qui c'è una persona con la mascherina, due pesci, qui c'è la resection qua c'è la parella per gli interventi, qua c'è il computer, un posto per sedersi, una sedia, qua tutte le medicine, là c'è la farmacia ok, carino, finisce qui, caruccio, c'è la sedia a rotelle, carino ditemi nei commenti se voi l'avete messo e iscrivetevi al mio canale, si chiama Vilma Carrero lasciate un like e ci vediamo nella prossima parte dove guardo anche gli altri nuovi update ciao